Sono in piedi sulla piattaforma del tram e mi sento del tutto insicuro riguardo alla mia posizione in questo mondo, in questa città, nella mia famiglia. Neanche approssimativamente sarai in grado di indicare quali esigenze potrai far valere con ragione in una qualsiasi direzione. Non posso in alcun modo giustificare il fatto di trovarmi su questa piattaforma, di tenermi a questa cinghia, di farmi portare da questa vettura il fatto che la gente scansi il tram o cammini quieta o sosti dinnanzi alle vetrine. Nessuno lo pretende da me, è vero, ma non ha importanza. Il tram si avvicina a una fermata. Una ragazza si accosta ai gradini, pronta a scendere. Mi appare con nitidezza straordinaria, come se l'avessi toccata. È vestita di nero. Le pieghe della gonna sono quasi immobili. La camicetta è aderente e ha un colletto di pizzo bianco a maglie sottili. La mano sinistra la tiene aperta contro la parete. L'ombrello nella destra è appoggiato sul secondo gradino. Il suo viso è bruno. Il naso, levemente schiacciato ai lati, ha la punta rotonda e larga. Ha una capigliatura folta e scura e singoli capelli ancora corti sparsi sulla tempia destra. Ha piccoli orecchi aderenti, ma io, essendole molto vicino, vedo tutto il retro del padiglione destro e l'ombra alla radice. Mi chiesi in quel momento, come mai non è stupefatta di se stessa? Come mai tiene la bocca chiusa e non ne fa parola?